Ciao, buonasera e benvenuto. Questa sera facciamo un video sul come riconoscere alcune parole e iniziare a prenderle per seriamente, come qualcosa di reale, di detto e che va vissuto nel pieno senso di realtà. Lascia che mi presenti, sono dottoressa Teresa Natale, Life & Focusing Coach, mi occupo di relazioni e in particolar modo di relazioni conflittuali e relazioni tossiche. Che cosa accade molto spesso? Così ho la possibilità di spiegarti meglio ciò che intendevo con la prima parte di questo video. Voglio portarti l'esempio, qualcosa che mi è realmente accaduto all'interno di un lavoro con una persona che è stata lasciata, ha vissuto uno scarto, in realtà ne ha vissuti diversi e pensava di aver chiuso questa relazione in maniera abbastanza pacifica. Dopo un po' di tempo si sono rivisti e hanno provato, riprovato a stare insieme. Questa relazione continuava a non funzionare. Ci sono stati di nuovo dei comportamenti poco gradevoli da parte di lui, lei che ha perso la pazienza, il controllo, insomma una relazione che andava poi sempre in un conflitto molto acceso. Che cosa accade? Che decidono nuovamente di separarsi, però una separazione perché ho prima parlato di scarto? Perché comunque questa persona, in questo caso l'uomo, la trattava sempre con molto distacco e freddezza. Quindi nonostante si fossero lasciati e lei sapeva che non era la persona giusta, comunque pativa la freddezza di lui nei momenti in cui si incontravano casualmente fra gli amici, perché avevano ancora delle amicizie insieme, cosa che adesso stanno cercando di evitare. Che cosa è stata la difficoltà però di allontanarsi da questa relazione da parte di lei? Qualcosa che accade spesso, che rientra nel meccanismo dell'idealizzazione. Quindi nonostante lei abbia pieno riconoscimento del fatto che questo uomo non sia l'uomo giusto per lei, fa fatica a lasciarlo andare, fa fatica a dimenticare, fa fatica a ricominciare, a portare lo sguardo lontano da questa relazione. Perché? Perché tende a ricordare costantemente le cose belle, i bei momenti, ciò che è stato piacevole. In più che cosa si aggiunge? Si aggiunge il fatto che lui, in questo allontanamento di circa tre mesi, quando ogni tanto si frequentavano con amicizie, lui mostrava la sua disinvoltura nello stare ormai distaccato da lei. E questa donna non vedeva di buon serenità questo allontanamento. Non solo lui mostrava serenità, ad un certo punto nel parlando insieme lui dice chiaramente che si sente bene così, che vuole assolutamente vivere la sua vita da solo e che anzi ha conosciuto un'altra persona. In quel momento questa donna inizia a non poter credere che veramente lui abbia altro da fare, che abbia altro per la testa. Questa situazione accade a tantissimi, cioè oltre a rimanere legati alle emozioni belle, ai ricordi gradevoli della relazione, quando c'è il distacco e il soggetto, in questo caso lui, dice io sto bene da solo, non voglio più tornare indietro, ho un altro interesse, in questo caso lei non accetta queste parole. Ma non è che non le accetti, addirittura pensa che non siano vere. Il lavoro che abbiamo fatto insieme a questa persona è stato quello di riportare, diciamo così, il pensiero ai fatti concreti, a quelle che sono le realtà o comunque le evidenze, quelle che a volte sono difficili da accettare, perché in questi casi c'è una sorta di negazione di quello che sta accadendo. E allora non solo si rimane aggrappati ai pensieri, ai ricordi belli, ma si tende a non credere a ciò che viene detto. In un caso come questo, lui molte volte addirittura la trattava freddamente e anche con un po' di aggressività per tenerla lontana. Non che lei fosse una stalker di lui, ma nelle volte in cui si incontravano in quei tre mesi degli stacco in cui però avevano delle frequentazioni, lei si vedeva che avrebbe voluto riavere un contatto con lui, una rifrequentazione, e in più c'erano frequenti messaggi di lei, momenti in cui lei sentiva uno stato di nostalgia e di tristezza e non riusciva a gestire queste sensazioni. Infatti il lavoro con lei è stato proprio quello di lavorare su queste emozioni della nostalgia, della tristezza, di rimettere ordine in quelli che erano i pensieri che ritornavano e ritornavano incessantemente, non lasciavano più lo spazio per pensare ad una realtà diversa, e quindi c'era questo aggancio nell'idealizzazione continua e costante. Quando io lavoro con le persone e lavoriamo sul percorso di basse relazioni tossiche, questo può essere spesso, è un punto cardine, perché molte persone mi contattano proprio in questa fase, cioè quando sentono che non riescono a staccare il pensiero dai momenti belli e si accorgono che hanno continuamente un pensiero su quella persona e desiderano riprendere invece la propria serenità. Tutto questo ti deve aiutare, e ti ho voluto parlare di questo, perché c'è una regola, almeno una regola a livello cognitivo, che bisogna iniziare a prendere e a scriversi anche su un post-it e metterselo davanti agli occhi, perché c'è tutta una parte di lavoro che riguarda le emozioni, lavorare sulla nostalgia, sulla tristezza, sugli attaccamenti, su quel ritorno di pensieri continui e costanti, quello è un lavoro che va fatto insieme, ma c'è una parte, una prima parte, che puoi almeno iniziare già a vedere da solo. Che cos'è? Qual è la prima parte? È quella del credere alle parole di questa persona, perché quando tu dici a te stesso no, non è possibile che non mi ami più, no, non è possibile che si innamori di qualcun altro, no, non è possibile che la nostra storia così meravigliosa ormai per lui, per lei, non valga più niente, mentre l'altro ti sta dicendo che vuole un'altra storia, sta bene da solo, non vuole più ritornare indietro, tu, la tua mente ti può far continuare a dire no, non è possibile, e invece è arrivato il tempo di iniziare a dire sì, è così, è possibile, perché se lo dice, lo dice una volta, due, se continua a non voler ritornare insieme, se continua a trattarti male pur di tenerti lontano, dipende da te iniziare a portare amor proprio a te stesso, iniziando a pensare che quello che sta dicendo è vero. Molte volte le persone mi dicono e no, perché io so che lui o lei spesso mentono, non dicono esattamente quello che pensano. Allora qui c'è un'altra riflessione da fare. Se tu sei stato o stai con una persona che in alcuni momenti ti ha espresso emozioni non reali, quindi con pensieri, con parole non reali, e tu hai capito che in qualche modo negava l'evidenza del vostro amore, o comunque aveva difficoltà a manifestare veramente i suoi pensieri. Perciò sei entrato nel ruolo, nella parte di quello che deve sempre cercare di capire oltre. Quello che ti voglio dire, perché è importante come sempre capire quali sono le relazioni sane. Come mi ha detto una volta un mio cliente, mi ha detto ho capito per le relazioni di che cosa non voglio più, di che cosa non ho bisogno e che cosa non voglio più. Ma non mi è molto chiaro di che cosa invece, che cosa serva per una relazione sana. Allora una relazione sana di solito è fatta da due persone che parlano in maniera chiara l'una verso l'altro. Perciò quando tu stai con una persona ed ogni volta sei costretto a pensare in maniera diversa rispetto alle sue parole, cioè le sue parole divergono da quelli che sono i fatti o da quelli che sono i suoi magari anche sentimenti e tu ogni volta devi quindi fare un lavoro di interpretazione sorvolando anche su possibili ferite che questo ti crea. Perché se tu stai con una persona che spesso ti dice che tu non conti nulla per lui o per lei, e in realtà poi dopo ti dice no non è vero che sono fatto così e tu ogni volta devi assorbire questo tipo di parole che negano il vostro amore ma in qualche modo poi devi pensare che in realtà è perché l'altro ha delle difficoltà ad esprimere le sue emozioni. Quindi se tu ogni volta devi cercare di capire, di interpretare quello che è lo stato emozionale dell'altro, comunque non è una relazione sana. perché una relazione sana ha di base che due persone non si feriscono l'un l'altro, non almeno volontariamente. Quindi ha di base che due persone cercano attraverso il dialogo di esprimere al meglio per quello che è possibile i propri sentimenti. e non c'è un'interpretazione, non c'è niente da interpretare, c'è da ascoltare, da sentire, da fidarsi. Sono proprio altre le emozioni che si mettono in movimento. Non c'è una mente che deve cercare di capire se sta dicendo il vero o non il vero. Perciò che cosa è importante fare? Se qualcuno ti ha lasciato, ti ha scartato e in un frangente subito dopo quella separazione ha iniziato a trattarti in maniera fredda, a dirti che non ne vuole più sapere nulla, interrompi quel ciclo della tua mente che ti fa dire no, non è possibile. perché in realtà è possibile, è possibile che voi abbiate avuto una storia meravigliosa ma che adesso lui o lei abbia desiderio o abbia superato o abbia iniziato a sentire di voler vivere una vita diversamente. E questo è un caso. Perciò credi a quello che ti viene detto. E quando stai per troppo tempo con persone con le quali devi interpretare e ogni volta pensare e ripensare a quello che stanno dicendo se è vero o non è vero, che cosa ci può essere dietro alla loro incapacità di esprimersi in maniera chiara ricordati che stai dando possibilità ad una relazione non sana di manifestarsi. E quando siamo in una relazione non sana si tende nel tempo come dico sempre ad accettare l'inaccettabile. Allora tu ti devi chiedere io voglio accettare l'inaccettabile tendenzialmente no. non ha senso accettare l'inaccettabile. E allora se c'è qualcuno o qualcosa che hai sempre costantemente da interpretare ricordati che non ti porta ad una relazione armoniosa non ti porta ad una relazione di equilibrio. con questo video questa sera abbiamo concluso lascia nei commenti la tua esperienza o quello che senti di voler condividere condividi questo video se può essere di aiuto ad altri e ti invito a visitare il mio sito a scaricare anche quattro video gratuiti che posterò sotto dove c'è lo spazio con i vari link perché è importante che tu possa approfondire tali argomenti allora ho preparato quattro video completamente gratuiti per lavorare un po' di più sulla tua autostima ho un sito dove puoi trovare altre informazioni in maniera tale che tu non ti senta solo che tu non senta di dover far tutto da solo e informarsi capire conoscere è fondamentale ci vediamo presto buona serata buona giornata ciao a presto